Sono sei punti, credo che la diffusione che ne è stata data ovviamente siano ormai all'attenzione di tutti, sicuramente tra gli altri vorrei ricordare ovviamente la grande problematica legata innanzitutto al costo della materia prima che ovviamente è schizzata e sta diventando l'oro ancora di più bene a rifugio in momenti come questo e ha condizionato fortemente quelli che sono i costi appunto del prodotto finito, quindi del gioiello e della produzione ora fa finita. L'altro ovviamente è la grande e necessaria attenzione perché questi valori poi generano dei limiti a quali poi le nostre imprese sono legate a cominciare ad esempio dall'accesso ai contributi a fondo perduto cioè una nostra impresa familiare o poco più che familiare ovviamente già supera i livelli massimi per poter accedere a questo livello ma non naturalmente per un volume di fatturato e di valore legato alla produzione quindi al valore aggiunto ma semplicemente a questo ripeto valore eccezionale della materia prima. Naturalmente poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che dovremmo valutare come la possibilità. Sappiamo che le nostre imprese vendono nel mondo quindi sapere che non possiamo sostanzialmente muoverci con i voli ancora aerei chiusi, con le fiere che sono state cancellate, con tutta una problematica appunto di accesso a quei canali che sono di fatto quelli di riferimento ovviamente rappresenta appunto l'altro punto che deve essere in qualche modo così attenzionato da chi ovviamente mette a disposizione del mondo produttivo queste misure eccezionali. La riduzione del fatturato è stata molto molto sensibile in questi mesi, queste settimane anche della riapertura e soprattutto ripeto rischia di perdere anche si rischiano di perdere i posti di lavoro, si rischia di perdere tanto. Non voglio ovviamente disegnare uno scenario troppo fosco perché io sono ovviamente ottimista in questo e voglio pensare che si torni ad essere in grado di poter riattivare quelle forme virtuose appunto di mercato per come ovviamente eravamo abituati a vederle anche prima del covid-19 e crediamo davvero che insomma ci siano le condizioni. L'attenzione c'è, è forse anche non riferibile ad altre esperienze, questa unità che ha visto tutto questo mondo unito nel rappresentare queste difficoltà ma soprattutto anche nell'individuare delle forme di riscossa e di risposta. Quindi in questo ripeto io credo che davvero qualcosa di buono potremo fare e sicuramente le nostre imprese saranno in grado di coglierlo.